dove sei? eccoti lì! andiamo un po' ciao ciao meraviglia che bello che sei non tirarmi giù sassi eh ma ci sei anche tu a voi non fa paura eh questo tempaccio a voi non fa paura a noi umani un po' sì ciao buon legnone ci vediamo tempo da stambecchi non da lupi direi ce l'abbiamo provato va sempre esperienza arricchimento ci prepariamo per l'inverno i ramponi pecozza un'esperienza oggi ha vinto lui ovviamente ci sta tutto serve bello lo stesso